Benvenuti 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 Mach needing to control the killer New Machter Need they tell you The killer caught the number of a bacteria He siss kı Per favore, per favore, no! Così solo è impaurito, ma presto, capitano, sarai spuntato dalla lista. Sarai spuntato dalla lista. E non sentirai più niente. Mai più. Quale lista?! Non ti ho mai visto in vita mia! E non sono più nemmeno un capitano! Non navigo da anni! Ti prego! Abominio, aff... Ucciderti sarebbe divertente. No! Shagurado, credi che io ti stia offrendo una scelta? Ora affronterete una messaggera! Ora vi faccio vedere io! No! 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 Non perdono! Non perdono! C'è te si sei! Non perdono! Non perdono! Molto! È vero! Questa è vero! Impara! A presto! A presto! A presto! A presto! Cosa... mi hai fatto? Non può essere! Tu... sei degno! Ma sei un mo... Oh, Dea... Cosa stai cercando di mostrarmi? Le Isole Ombra? Gunplank? Una grande prova! Messaggera! Dea! Sacerdotessa, sei ferita? Come ha potuto sfuggirci l'affogato? La Dea... gli ha dato il suo favore! Ma tu... devi saperlo! Sei la messaggera della verità! La volontà della madre serpente scop... Forse hai bisogno di riposare! Non ne ho bisogno! Tornate al villaggio! Vi raggiungerò presto! Salve, messaggera del... Anziana! Cerco una guida! Parla, bambina! Dimmi cosa ti inquieta! Cercavo di purificare Bilgewater da una minaccia! Un nemico! La cui ombra diffonde paure e ris... È questo il tuo incarico! Ma questo squartatore del porto insanguinato! L'ho messo alla prova! E... La Dea l'ha ritenuto degno! Che fatto curioso! Ma non ha alcun senso! Non è un uomo vivente! E i non vivi sono abbietti per la nostra Dea! Mi sforzo di interpretare la sua volontà! Ma... Mi sembra sbagliata! Bambina mia! La madre serpente scorre in ogni cosa! Ma... Ho malinterpretato la sua volontà! Se ho conferito la benedizione della Dea a chi non la merita! E la hoi! Non dire sciocchezze! Sei forte! E la Dea scorre in te! E se mi sbagliassi? La Dea mi ha mandato una visione! Solo la Dea sa che cosa ci riserva il destino! La posta in gioco è troppo alta! Allora porgile! Venerabile! Io... Sì! Sacerdotessa! Presto! Dovete vedere una cosa! Un uomo davvero notevole! Lei è il laoi! Il nostro campione! La nostra messaggera! È un piacere conoscerti! Sono Braum! Del Freljord! Del Freljord! I miei uomini! Sono stati molto... Cammina con me! Una terribile malattia, Tormenta il Freljord! Ha reclamato le vite di molti bambini! Braum! Sei proprio tu! Certo! Guarda! Ho portato un amico! Non temere! Occupati di lui fino a quando non ritornerò! Lo farò! Riposati! Braum riuscirà a trovare una cura per te! Hai la mia parola d'onore! Braum! Però questo è l'impossibile! Tu hai un cuore puro! Ma... La malattia si sta diffondendo! Per Braum non... Hai combattuto la nebbia oltre! Ah! Lo farei di nuovo! Ho perso il mio scudo! Deloi! Abbiamo un messaggio da... Davvero? Lei chiede udienza! Ha detto... Beh, ha detto... Che cosa? La nebbia oscura! Grazie, Braum! Ti sta aspettando! Conosco la... Amica mia, il destino ci ha unito a quanto sembra! Non è la tua battaglia! Eppure, non può essere una coincidenza che... Aiutandoti a combattere la nebbia, potrei scoprire di più sulla cura che cerco! Il tuo cuore è forte! E non ti permerò! E un po' di chiamata che cerco! E un po' di chiamata che si è stinato! No... C'è una situazione che si viva la città! E una situazione che si sape è... che si è in Italia! E un po' di chiamata che si fa sce fai! E noi? Che storie raccontano su di te? La grande messaggera della verità? Sono solo una tra molti messaggeri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.